Il museo è nato 12 anni fa, subito dopo la chiusura dell'ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà di Roma. Ci si poneva il problema di lasciare una traccia di questo luogo e soprattutto di conservare il patrimonio storico documentale scientifico che questo luogo conserva. Chiunque potrà venire a visitare il museo si rende conto di qual è la differenza. Non entro in un normale museo, entro in un laboratorio e questo è un laboratorio dove le cose si fanno insieme a noi, quindi i visitatori possono interagire con le esperienze che abbiamo realizzato. Effettivamente poi il filo conduttore di questo museo è il racconto, il racconto del dentro e del fuori, del prima e dell'oggi. È una metafora che noi abbiamo scelto, quella che colpisce il visitatore quando entra, entrare fuori e uscire dentro. Abbiamo appunto costruito un muro che separa il nostro percorso museale e che permette ai visitatori di sentirsi parte di questa esperienza, entrando dentro per la prima volta in un mondo che è a loro estraneo, quindi un fuori. Quindi percorrono tutto il museo al di fuori del muro e poi attraversano l'interno del museo entrando dentro il muro, quindi svelando il museo ciò che un tempo il manicomio nascondeva e svelando anche i rischi potenziali che ci sono ancora di poter ricreare dei manicomi che non sono semplicemente dati dalla grandezza degli edifici, ma dai modelli di lavoro che vengono adottati. E quando si lavora con una logica antimanicomiale si riescono a fare molto bene le cose, soprattutto si riesce a gestire molto bene la condizione della gravità psichica. Questo è un museo che insegna alle persone anche l'importanza della comunità e che fa capire una cosa essenziale, che noi non avevamo bisogno dei manicomi, non abbiamo bisogno dei manicomi, perché i manicomi servono esclusivamente a nascondere i fallimenti e a nascondere i limiti. La psichiatria è una disciplina che si scontra con il limite e noi non dobbiamo nasconderci, dobbiamo affrontare spesso le situazioni limiti, non lo possiamo fare sempre da soli, non possiamo sempre delegare la gestione della difficoltà psichica alla psichiatria, ma dobbiamo chiamare al lavoro comune la comunità, i cittadini. In questo modo non ci dobbiamo vergognare dei limiti, ma dobbiamo condividere i limiti e condividere le esperienze, perché soli insieme potremo riuscire a fare quello che da soli nessuno psichiatra riesce a fare. Il percorso di costruzione del museo è in fase di realizzazione e anche di completamento. Con Studio Azzurri abbiamo già ideato e progettato tutto il percorso del piano superiore, che è concentrato sull'oggi, sulla realtà odierna e a novembre avremo un'anteprima di una di queste nuove installazioni molto suggestiva che si chiama appunto Portatori di Storia. L'esperienza in questi anni devo dire che è molto positiva, perché ha dato forma a una rete, una rete italiana anche di esperienze, anche se ancora non fortemente consolidata questa rete, e poi una rete europea con la quale noi siamo in contatto, dove cerchiamo di far valere anche le prerogative della storia del nostro paese, soprattutto dell'esperienza italiana. Ecco, noi non dobbiamo mai dimenticare che nel campo della salute mentale l'Italia è un'eccellenza nel mondo e noi siamo molto orgogliosi di poterlo mostrare, anche in questo museo lo mostriamo. Pensiamo di essere un anello fondamentale nella catena del Laboratorio Italiano della Salute Mentale e siamo molto contenti che altre esperienze si stiano progettando e realizzando sulla scia della nostra attività. Noi crediamo che sia utile non tanto costruire molti musei, ma fare in modo di consolidare una rete di esperienza che possa permettere alle persone di avere molti elementi di conoscenza. La promozione della salute mentale è un cardine dell'attività della salute mentale. Fare promozione della salute mentale, fare prevenzione, vuol dire fare questo, quello che facciamo noi. Noi pensiamo che questo sia uno strumento estremamente significativo del lavoro di un operatore della salute pubblica. I miei collaboratori sono tutti operatori che vengono dall'esperienza della salute mentale, dall'antropologia, dal campo artistico, dal campo visivo, museale. Sono dei know-how necessari. Non serve solo la medicina, non serve solo la psichiatria. Come diceva giustamente Franco Basaglia, è la comunità che serve. Poiché da vicino nessuno è normale, come c'è scritto nel nostro museo. Tutti dobbiamo imparare a rispettare le diversità. E quindi per concludere direi che in fondo il nostro è un museo che fa della diversità una risorsa e che permette alle persone di capire quanto è importante la diversità.